Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. 25 novembre 2023. Oggi, come da 23 anni a questa parte, è la giornata internazionale per la eliminazione della violenza sulle donne. Un'emergenza che, se è vero come è vero che ha carattere di internazionalità, oggi in Italia è particolarmente sentita. Ed è inutile che io vi stia a dire il perché. Comunque ve lo dico, è particolarmente sentita in quanto, di fronte al crollo progressivo negli ultimi vent'anni di tutte le altre fattispecie di omicidio, il femminicidio ha numeri che restano costanti nel tempo. Il femminicidio, va ricordato, non è semplicemente l'uccisione di una donna, ma il suo assassino nell'ambito delle relazioni familiari coniugali affettive. Proprio come il caso di Giulia Cecchettin, che è esploso nelle nostre coscienze giusto all'inizio di questa settimana, che sfocia in questo 25 di novembre. Un caso del quale, quello di Giulia Cecchettin, anche la stampa estera, dopo averlo derubricato nei primi giorni a piccola cronaca italiana, si sta occupando proprio per le ripercussioni avute sulla società. E allora comincio con Fran Saint-Fau, che titola Italia, il femminicidio di Giulia Cecchettin sconvolge il paese e scuote il patriarcato. Dopo avere spiegato l'antefatto e le reazioni politiche, la redazione francese cita la lettera della sorella della vittima, Elena, in cui contesta il classico minuto di silenzio, invitando al contrario tutti gli studenti a fare rumore per denunciare la società patriarcale che lei ritiene responsabile della morte della sorella. Non un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. Anzi, tanti minuti di rumore. Appello al quale hanno risposto migliaia di studenti in tutta Italia, dando vita a diversi incontri nelle loro scuole e organizzando la grande manifestazione. Le grandi manifestazioni, perché ce ne sono in tantissime città le grandi manifestazioni di oggi. Sempre dalla Francia, West France, che titola Dopo il femminicidio di Giulia in Italia, i giovani fanno molto rumore. Per l'appunto. Protestano i giovani, scrive il giornale francese, contro una risposta del governo che sembra ancora troppo blanda. Mercoledì, per esempio, hanno sfilato a Milano, facendo rumore con tutto ciò che hanno trovato per raggiungere lo scopo. Dai tamburi alle pentole battute con i cucchiai. Ancora Euronews, che titola L'Italia sta facendo abbastanza per proteggere le sue donne e le sue ragazze? Se il Paese sta investendo, potenziando i finanziamenti ai centri antiviolenza e ai centri di accoglienza per le donne, denuncia la redazione di Euronews, quello che non si sta facendo abbastanza è la prevenzione. Il punto dove l'Italia è ancora debole, continua Euronews, è un'educazione al superamento del patriarcato, al superamento di quella cultura per la quale l'uomo ha il diritto dovere di controllare la donna per proteggerla, a parole, per impossessarsi della sua vita nei fatti. E poi, giustamente, la donna dice, ma che bisogno c'è che sia tu a proteggermi, so farlo da sola. Ancora da Parigi, Le Figaro, dalla Francia, si è scritto tanto su Giulia Cecchettin e su tutte le riflessioni che sono seguite successivamente. Il titolo delle Figaro è Dobbiamo rovesciare il sistema perché l'omicidio della studentessa Giulia Cecchettin scuota l'Italia. E il quotidiano racconta che per noi la vicenda di Giulia è un dramma nazionale, con accuse allo Stato di non proteggere le proprie donne e tutto il mondo politico che poi è intervenuto. Aiutare le vittime dopo che la violenza si è già verificata serve a poco. Dagli Stati Uniti c'è ABC News che titola Fare rumore. Un omicidio e un film spingono gli italiani a chiedere a gran voce la fine delle violenze contro le donne. Il film citato, lo avrete capito, ecce ancora domani della Cortellesi, la storia di una donna che sopporta percosse e sminuimenti da parte di un marito prepotente. L'esplorazione del ruolo soffocante del patriarcato nella società italiana mai risolto. Una straordinaria confluenza, scrive ABC, tra finzione e realtà. E fuori dal caso Giulia il sito L'Anfo dall'isola di Reunion nell'oceano indiano cita la vicenda della ragazza milanese di Ciannovenne che martedì sera scorsa a Milano è riuscita a salvarsi da un'aggressione sessuale facendo l'SOS con la mano aperta e poi richiusa con le quattro dita. Racconta l'articolo che a 1.30 del mattino la ragazza stava rientrando in albergo in pieno centro, nella piazza del teatro alla Scala, quando un giovane era cominciato a strattonare dicendole poi vieni con me a casa. Lei prontamente gli avrebbe chiesto di accompagnarla al McDonald's lì vicino per darsi una sistemata in bagno e passando davanti alla cassa mentre lui chiedeva una sigaretta sarebbe riuscita a intercettare lo sguardo della cassiera e farle il gesto convenuto a livello internazionale. Dopodiché è bastato aspettare chiusa in bagno l'arrivo della volante. Voltiamo pagina non prima di aderire sebbene solo col cuore alle manifestazioni di oggi e c'è una sola notizia prima di chiudere e riguarda l'incidente stradale che ha coinvolto Mario Balottelli del quale come ovvio scrivono tutti 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 i giornali turchi. La star della Dana Demir Por, scrive Sonda Chica, ha avuto un incidente stradale a Orzi Nuovi, il suo paese di origine nel Bresciano. A bordo di un Audi Q8 si è schiantato contro un muro, la macchina è da rottamare, lui è uscito praticamente illeso, ha rifiutato il test dell'etirometro, è stato portato via in ambulanza e gli è stata ritirata la patente. Per oggi non c'è nessun'altra notizia praticamente degna di nota, la giornata contro la violenza sulle donne praticamente monopolizza l'informazione sull'Italia e va bene così. A domani, segnalandovi che questa è la puntata numero 992 di Ristretto Italiano, vi ricordo che fra otto giorni avremo la numero 1000. Non so ancora che cosa faremo ma qualche cosa, anche piccola piccola, la faremo. e ve lo dicevo, giusto per non farvi cogliere impreparati. Buon weekend a tutti e a risentirci a lunedì.